Nella trentaduesima giornata del campionato di Serie D, Girone F, il Pineto pareggia in casa contro il Porto d'Ascoli. Biancazzurri rimontati nel primo tempo da Rovinelli e Clerici dopo l'iniziale vantaggio di Minin Cleri. Nella ripresa allo scoccare del novantesimo, lo sicco dal dischetto firma al definitivo 2-2. Il match inizia con la classica fase di studio. Pineto, prima squadra, rendersi pericolosa con Forgione, che si inserisce e calcia dal limite dell'aria senza trovare la porta. La squadra di casa alza il baricentro e passa in vantaggio. Traini verticalizza, velo di Allegretti per l'arrivo di Minin Cleri, che davanti a testa non sbaglia. 1-0 Pineto e squadra di casa che gestisce le operazioni senza grossi patemi. Intorno alla mezz'ora Lampi di Maio e Allegretti, ma in entrambe le circostanze testa e reattivo e blocca. Nel momento di controllo il Porto d'Ascoli pareggia. Terzo angolo consecutivo di Napolano e colpo di testa vincente di Rovinelli. La formazione di Amaolo ha una clamorosa palla-gol per rimettere le cose a posto, ma Minin Cleri ha tu per tu col portiere, sceglie la potenza e pecca di precisione. Il Porto d'Ascoli finalizza praticamente tutto ciò che crea e a fine primo tempo completa la rimonta. Azione palla a terra, Evangelisti in buca per Clerici, che supera Mercorelli per il momentaneo 1-2. Nella ripresa il Pineto spinge il Porto d'Ascoli nella propria metà campo e cerca di colpire due volte da fuori aria con lo sicco che non inquadra la porta. Più insidioso il colpo di testa di Njambè su calcio d'angolo che finisce alto per questione di centimetri. Da rivedere poi il contatto testa di Filippo con il difensore che va a terra. Niente da segnalare per il direttore di gara. Il portiere marchigiano poco dopo si avventura fuori dai pali e manca la presa. Emili con un pallonetto cerca la gran giocata senza trovare fortuna. La partita sembra avviarsi verso il successo ospite, ma un contatto in aria tra Rovinelli e Maio viene ritenuto falloso ed è dunque calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo sicco che non spiazza ma realizza incastrando il pallone sotto l'incrocio. Non ci sono altre emozioni, il pareggio accontenta maggiormente il Porto d'Ascoli che può ancora sperare nei play-off. Per il Pineto i punti di vantaggio sul Senigallia sono 4 a 2 giornate dalla fine. La gara mi sembra che è stato positivo perché poi da squadra sotto non ho visto una squadra che ha mollato mentalmente, è stata forte perché poteva anche sciogliersi come il burro, come la neve. E quindi invece abbiamo lottato e forse il pareggio l'avremmo meritato prima perché le occasioni le abbiamo create, non abbiamo preso nessuna ripartenza e mentalmente dobbiamo essere forti. C'è magari molto rammario in questo momento, vi dico sempre magari dalla situazione un po' negativa, tirare sempre le energie che occorrono per questo finale di stagione. altrimenti noi dobbiamo fare una vittoria per vincere il campionato, lo sapevamo che siamo obbligati a farlo, lo sapevamo anche oggi pur vincendo però il campionato non avremmo vinto oggi, quindi dobbiamo cercare una vittoria e noi ci proveremo domenica prossima con Roma City. In quel momento pur che ci siamo abbassati un po' nella parte finale non c'era la sensazione di rischiare di prendere il pareggio. e quindi ci lascia un amaro in bocca, però siamo molto soddisfatti della prova. Eravamo venuti qua consapevoli che giocavamo contro una delle migliori squadre d'Italia perché i risultati dicono questo e siamo andati sotto, quindi situazione difficilissima. Con calma ci siamo riorganizzati, ci siamo compattati e siamo riusciti addirittura a ribaltare la partita. Questo è merito di un gruppo che tutte le volte che da fuori pensano che non ne ha più invece tira fuori sempre un jolly, un colpo di coda lo chiamano noi e riesce a darci sempre soddisfazioni importanti.